Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment o meglio dire il mio popolo Sui nostri canali avrete assistito alla richiesta di un match per il titolo italiano da parte del signor Gianni Vettor Ebbene, mio caro popolo, ho deciso che IW Rebirth Ebbene, mio caro popolo, ho deciso che IW Rebirth 2019 Che si terrà nell'ambito di Hurricane Fighter Show presso il palasporto di Chiavari alle ore 17 del 26 ottobre Il campione italiano Gianni Verga Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment Sui nostri canali avrete assistito alla richiesta di un match per il titolo italiano da parte Sui nostri canali avrete assistito alla richiesta di un match per il titolo di campione italiano da parte del signor Gianni Verga Ebbene, mio caro popolo, ho deciso che IW Rebirth 2019 Che si terrà nell'ambito della manifestazione Hurricane Fighter Show Presso il palasporto di Chiavari il 26 ottobre alle ore 17 Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment Meglio dire, il mio popolo, dal vostro general manager friend Hurricane Fighter Show Presso il palasporto di Chiavari il 26 ottobre dalle ore 19 Il campione italiano Backslash siderà per il col... Porca Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment Per il ruolo di general manager E nel momento in cui, molto sportivamente, facevo i complimenti al signor Dennis Sferrandogli un colpo nei suoi gioielli di famiglia Sui nostri canali avrete assistito alla richiesta di un match per il titolo italiano da parte di Gianni Verga Ebbene, mio caro popolo, ho deciso che IW Rebirth 2019 Che si terrà nell'Aricam Fighter Show Buonasera fans dell'International Wrestling Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment Meglio dire, mio popolo Dal vostro amato Dai Non tutti sanno che quell'essere senza talento il signor Dennis italiano Ha osato sfidarmi per tentare di prendere il mio titolo di general manager E nel momento in cui, molto sportivamente, facevo i complimenti per la contesa Sferrandogli un colpo ai suoi gioielli di famiglia Quel big ed ingrato di semi-graison non solo ha disobbedito alla sospensione Ma ha addirittura accoppiato Sto cazzo Da Fighter Show Presso il Palasport di Chiavari Il 26 ottobre dalle ore 19 Il campione italiano Backslash difenderà il proprio titolo contro il signor Gianni Verga Ma le sorprese per il mio amato popolo non sono finite qua Presso Presso Uno ti posto Un deciso che il 26 ottobre IW Rebirth 2019 All'interno della High Hurricane Fighter Show Presso il Palasport di Chiavari Dalle ore 19 Ci sarai anche tu E la sospensione Ci spiegare Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment Meglio dire il mio popolo Da parte del vostro caro e amato General Manager Frank Basilico Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment Da parte del vostro caro e amato Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment Meglio dire il mio popolo Da parte del vostro caro e amato General Manager Frank Basilico Sui nostri canali avrete assistito alla richiesta di un match per il titolo di campione italiano Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment E il mio popolo E il mio popolo da parte del vostro caro e amato General Manager Frank Basilico Sui nostri canali avrete assistito alla richiesta di un match per il titolo di campione italiano Da parte del signor Gianni Verga E bene mio caro popolo Ho deciso che IWR Bird 2019 Che si darà nell'ambito della manifestazione Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment Ci sarei anche te E la sospensione è revocata Un saluto Un saluto dal vostro General Manager Frank Basilico Buonasera fans dell'International Wrestling Entertainment